Buongiorno, sono Davide Sangiorgi, siamo qui all'ISE ad Amsterdam edizione 2012, mi occupo in Comtex SRL di ditta italiana per i prodotti Logos. I prodotti Logos sono divisi in due brand principali, prodotti dedicati ai sistemi museali e turismo, quindi audio guide e visite guidate, happy tour e i sistemi di votazione via radio. Logos ha un brevetto unico al mondo per gestire i sistemi di votazione via radio con un sistema multi antenna reale, è un sistema unico, non ci sono concorrenti, si possono avere sessioni di votazione fino a 16.000 votatori contemporaneamente, ma anche disponibili comunque sistemi di fascia più bassa, più economici come il Minimax e le Replier. Novità di quest'anno è il nostro nuovo software EasyVote, un software sviluppato pensando al futuro, un software basato su Java, quindi platform independent, può essere utilizzato su qualsiasi tipo di PC, Macintosh, Linux e ovviamente Windows. Come dice il nome EasyVote è un software semplice da utilizzare, semplice da preparare il setup di votazione, studiato apposta per gli eventi dove c'è sempre poco tempo per preparare le impostazioni e tutto quanto. Il software sta uscendo adesso dal beta testing, ha ancora qualche bug ma dovrebbe essere disponibile a fine febbraio e supporterà tutta la gamma dei nostri prodotti anche quelli degli anni precedenti.